Il progetto di riconversione a gas della centrale elettrica di Vale Grande viene contestato da un fronte sempre più ampio. Dopo il no del Consiglio Comunale e la ferma opposizione del mondo ambientalista, ieri il sindaco Pierluigi Perachini ha espresso il parere negativo dell'amministrazione con una lettera inviata al Ministro dell'Ambiente. Al Ministro il sindaco ha chiesto tra l'altro che il progetto dell'Enel di sostituire il carbone con il gas venga sottoposto a valutazione integrata ambientale. Non sarà facile contrastare la decisione dell'Enel che mira a mantenere il sito produttivo di Vale Grande sostituendo il carbone con il gas dal 2021. Ma in questo momento, anche se con diverse sfumature e non senza polemiche, tutte le forze politiche sono impegnate nella battaglia contro questo progetto. Serve però maggiore unità su un problema così importante per il futuro della città. L'ex sindaco Giorgio Pagano, nella trasmissione a tamburo battente di Tele Liguria Sud, ha lanciato un appello. Dobbiamo ripetere oggi, ha detto l'ex sindaco, quello che la città fece nel 1967. Allora era in gioco il futuro del cantiere Mugiano. La politica seppe trovare l'unità necessaria a difendere quella che oggi è rimasta l'unica attività industriale del nostro territorio. La posta in gioco è enorme. Dopo 50 anni la città vuole liberarsi di una centrale alimentata a combustibili fossili. Il sindaco Perachini ha ribadito ieri un fermo no al nuovo progetto. Un atto importante, ma più importante ancora sarà convincere la regione a non avallare la richiesta dell'ente elettrico. La regione ha un potere decisionale, senza il suo consenso infatti il progetto non potrà essere approvato. Lo prevede una legge del 2001. I consiglieri regionali del territorio sono dunque chiamati a fare la loro parte. Spezia, in termini energetici, pensiamo che abbia già dato tanto prima con l'Enel e poi con la Snam. Quei 73 ettari di Vale Grande, una volta risanati, possono rappresentare davvero una svolta per la città, sia dal punto di vista ambientale che da quello economico.